Sono 316 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell'ultimo bollettino epidemiologico su oltre 14.000 test effettuati in Regione Puglia. Salgono gli attualmente positivi che arrivano a 3.600, mentre si registra anche un decesso e un leggero aumento dei ricoveri che superano i 130 pazienti nelle strutture sanitarie pugliesi. Lecce e Labat, le province con più casi quotidiani, secondo il bollettino, con 82-80 rispettivamente contagi registrati. Un trend ancora in crescita in Puglia in questa nuova ondata, mentre si superano i 3 milioni di test effettuati da inizio pandemia. Buone notizie dalle vaccinazioni che, pur rallentando a causa dei giorni di festività estiva, ha superato in Regione le 5 milioni di dosi inoculate dall'inizio della campagna, con oltre il 70% della popolazione pugliese ad aver ricevuto almeno la prima dose e il 62% anche la seconda. Si sfiora la copertura totale per gli over 80, con punte al 100% per gli over 90. Si raggiunge una percentuale vicina al 90% di immunizzati per gli over 60, mentre si supera abbondantemente il 50% degli over 30. In Puglia, l'incidenza di contagi da Covid-19 resta al di sotto comunque di molte regioni italiane, anche se si avvia attorno ai 50 case ogni 100.000 abitanti, poco sotto il 4% invece l'occupazione dei posti letto, sia delle terapie intensive che di area medica. Grazie.